buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 26 luglio 2024 sono due santi che si festeggiano oggi quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questi due nomi uno è più diffuso l'altro un po meno ebbene oggi si festeggia la festa del padre e della madre di maria ovvero anna e gioachino erano i genitori di maria anna nacque a betlemme sposò gioachino e non ebbe figli fino in tarda età questo creava allora dei problemi alla coppia ma alla fine venne questa grazia del signore e anna partori maria che poi tutto quello che accade insomma erano tutti comunque della stirpe di davide ecco perché gesù viene annotato appunto con questa stirpe regale i santi anna e gioachino le previsioni del tempo ecco la grafica tanto sole tanto sole sulle marche e oggi in modo particolare sulla provincia di pesa l'urbino con un moderato scirocco al pomeriggio sulle coste e sulle vicine pianure le temperature massime saliranno fino a 34 gradi la minima si è attestata a 21 gradi sulle coste i venti spireranno da sud est mentre nell'entroterra con una deviazione leggera da est sud est il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 48 e tramonterà alle 20 e 39 e bene con questo quadro della giornata una giornata calda una giornata prettamente estiva comunque c'è una leggera brezza che rende un pochino l'atmosfera più respirabile così diciamo rispetto ai giorni scorsi ora allora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo un articolo di cronaca che campeggia pieno titolo sventato un furto in gioielleria allarme tra i commercianti l'articolo è firmato da osvaldo scatassi a cui diamo il bentornato sulle pagine dei giornali l'episodio in un negozio di corso matteotti coppia segnalata ai carabinieri allarme dunque tra i negozianti del centro storico di fano che cosa è accaduto è accaduto che in una gioielleria una commessa si accorta che una coppia che era entrata nel negozio precedentemente l'uomo aveva osservato a lungo tutto quello che accadeva in vetrina insomma si pensa che cercasse di individuare i sistemi di sicurezza la donna aveva un accento romagnolo un accento di una regione un po' settentrionale ebbene sono entrati e mentre la donna chiedeva alcuni oggetti in vetrina e quindi inviava alla commessa appunto un po' lontana da lei la commessa si accorta però che aveva messo in borsa delle colannine delle colannine di argento simili episodi commenta barbara marcolini che è la presidente della conf commercio ma anche lei pratica il lavoro di gioiellera ebbene simili episodi si intensificano durante l'estate quando certe persone si mimetizzano tra i turisti e gente che sa ciò che fa che conosce tutti i trucchi tanto per mettere in scacco anche la video sorveglianza però insomma questa volta il furto è andato a vuoto ma quello che è accaduto ha messo in allarme i negozi della città dove furti con destrezza ma anche al mercato anche al mercato accadono spesso e insomma non sempre poi questi furti riescono a essere sventati come è accaduto appunto in questo momento l'articolo a fondo pagina ieri era la giornata del salvamento ovvero una giornata mondiale che pone l'attenzione sui pericoli di fare il bagno in mare ci sono purtroppo molte molte vittime in questo senso in italia sono 400 circa le persone che muoiono affogate ogni estate al mare prova di salvamento a sassonia ebbene ieri siamo venuti a conoscenza che a fano scusate la nostra ignoranza a fano opera da tempo un'associazione di salvamento che è appunto inserita in un sistema nazionale che opera nella sensibilizzazione nella prevenzione di piccoli e grandi contro i pericoli che ci sono appunto quando si fa il bagno al mare sembrano cose trascurabili invece sono molto molto importanti e ieri ai bambini del jump sono state così evidenziate con una forma curiosa adatta a loro con un piccolo giornalino una piccola sequela di immagini tutte le norme importanti per così aumentare la sicurezza in mare questi ragazzi hanno reagito molto molto intelligentemente molto prudentemente insomma sono ragazzi esperti anche se sono molto molto piccoli allora prova di salvamento a sassonia con i cani vediamo qui il titolo c'erano presenti anche i rappresentanti delle istituzioni c'era il sindaco serfilippi c'era l'assessore al turismo santorelli e poi c'erano anche i rappresentanti della protezione civile della capitaneria di porto e di altre associazioni ma la notizia più importante probabilmente è quella della nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'aset una delle società partecipate più importanti del comune di fanu ebbene cambia la giunta e cambiato anche il consiglio di amministrazione dell'azienda partecipata dal comune la guida ora a giacomo mattioli abbiamo visto come il presidente uscente paolo reginelli l'altro giorno ha fatto una sua conferenza stampa evidenziando tutto quello che è stato fatto negli ultimi sette anni periodo in cui l'aset cresciuta alquanto ha aumentato il suo patrimonio ha qualificato i suoi servizi il presidente eredita il ruolo che fu del padre sì perché anche giovanni mattioli padre di giacomo fu presidente di aset quando sindaco era stefano aguzzi al suo fianco c'è una sorpresa c'è una politica della destra che insomma è molto nota e maria antonia cucuzza è stata presidente del consiglio comunale di fanu è stata anche assessore ebbene vediamo come è composto questo nuovo consiglio d'amministrazione allora presidente giacomo mattioli giacomo mattioli ingegnere 46 anni meccanico speciale ingegnere meccanico non meccanico ingegnere meccanico specializzato sulla sicurezza sul lavoro di cui poi anche formatore nelle ultime elezioni amministrative è stato coordinatore della lista civica del sindaco e in passato fu consigliere di circoscrizione allora nel ruolo di vice vice presidente maria antonia cucuzza che fu presidente del consiglio comunale poi vice sindaca all'epoca dei due mandati di stefano aguzzi poi abbiamo un'altra rappresentante del centrodestra ed è francesca fiorelli della lega sesta della lista a quota 176 per il numero delle preferenze ricevute nelle urne completa la rosa enzo di tommaso di forza italia a sua volta sesto della lista con 52 preferenze il quinto consigliere di amministrazione lorenzo bartolucci commercialista rappresentante dei comuni soci minoritari proposto da mondolfo e votato all'unanimità sappiamo come anche i comuni soci di aset hanno una rappresentanza seppure minoritaria nel consiglio di amministrazione dato che fa 90 il proprietà del 97 circa rotti per cento delle azioni vediamo anche un articolo a fondo pagina che riguarda l'assemblea che si è tenuta l'altra sera a casa vetle ma carrara dove il comitato dei residenti e tutti i residenti hanno incontrato il sindaco anzi diciamo meglio la riunione è stata convocata dal sindaco ser filippi per fare il punto su tutte le richieste che i carraresi presentano all'amministrazione comunale in modo che si possa costituire un protocollo d'intesa con terna e al fine di finalizzare i soldi che terna dà al comune di fano come un indenizzo per le opere compensative all'adriatic link ebbene in questo caso ad un precedente elenco che già il comitato aveva inviato all'amministrazione comunale si sono aggiunte altre richieste che il sindaco terraconto le quali terraconto insomma se filippi perché poi dovrà dare ha detto una massima attenzione alle richieste di carrara come a quelle di metauriglia carrara cucurano e metauriglia sono le località dove andranno finalizzati maggiormente queste risorse sono 12 milioni di euro che terna si è già detta disposta a dare al comune di fano quale indenizzo per le opere del adriatic link e poi abbiamo un articolo che il corriere adriatico pubblica di spalla ma che il resto del carlino pubblica in apertura lo leggiamo dal resto del carlino dove l'articolo è più ampio auto delle vice sindaco diventa un caso parcheggiata in ztl senza permesso ebbene è stato francesco panaroni del movimento 5 stelle a denunciare questo caso l'auto della vice sindaca loretta manocchi è stata trovata senza permesso parcheggiata in una posizione davanti all'amministrazione comunale riservata alle auto del comune ebbene insomma questo ha suscitato un certo scalpore quell'auto era in posizione irregolare insomma il caso diventa un caso politico c'è stata anche poi la reazione della vice sindaca la quale ha detto che aveva preso la sua auto per far risparmiare le auto delle comune comunque l'aveva presa per un servizio delle comune e l'aveva parcheggiata appunto in questa posizione ci sono poi veramente tutte le dichiarazioni che rilascia loretta manocchi vediamo di leggerne qualcuno e poi francesco panaroni con un carico di ironia tira fuori anche una celebre frase del marchese del grillo io sono io e voi non puntini puntini eccetera allora vediamo un attimo quello che dichiara la manocchi dice in merito a quanto sostenuto dal consigliere comunale panaroni è opportuno sottolineare che per esigenze d'ufficio ho occasionalmente utilizzato la mia auto quindi a mie spese usufruendo di uno stallo riservato alle esigenze dei veicoli comunali quindi la manocchi ammette insomma quello che è avvenuto evitando di utilizzare l'auto del comune ho semplicemente parcheggiato la mia auto nello stallo riservato per attività connesse al mio mandato per alcuni sopralluoghi da svolgere pertanto ritengo che non ci sia alcun comportamento da censurare questa è stata la reazione appunto della vice sindaca vediamo ancora le altre notizie pubblicate dal corriere adriatico vediamo come questo articolo che riguarda Adamo sia importante sappiamo tutti cos'è Adamo è quella associazione che gratuitamente si prende cura dei malati oncologici di coloro che hanno bisogno di cure pagliative a domicilio insomma un aiuto importante per coloro che invece di essere ricoverati in ospedale possano continuare a vivere in un ambiente a loro più confacente come quello della famiglia e portare anche un aiuto alle famiglie che si prendono cura di questi malati ebbene oggi la potenzialità di questa associazione si rafforza con la telemedicina la telemedicina è un sistema di monitoraggio del paziente a distanza un monitoraggio che può essere attuato 24 ore su 24 in modo che il medico che è di Adamo e che si prende cura di questi malati può avere sempre sotto controllo la situazione di ogni degente conosce la temperatura conosce la pressione conosce l'andamento del cuore e quindi può intervenire in caso di necessità Adamo la telemedicina porta le cure e il conforto e il conforto a domicilio quindi abbiamo una situazione sanitaria ma anche una situazione psicologica di grande importanza vediamo la pergola a pergola vediamo un grosso investimento della regione sulla pergolese la valcesano torna centrale investiti 15 milioni sulla statale sopra luogo dell'assessore regionale balbelli per la fine dei lavori di rigenerazione e di asfaltatura appunto di questa arteria nei territori di pergola e di san lorenzo in campo scopre un ladro in casa e lo mette in fuga è accaduto a mondolfo una brutta avventura ma per fortuna finita bene per un per un proprietario di un appartamento si tratta di un uomo che abita in una casa a due piani nella periferia di mondolfo il quale entrando in casa il quale essendo in casa ha sentito vibrare la porta siccome aveva già ricevuto un furto cinque anni prima e questo vibrare della porta non era causale si è alzato e si è imbattuto nel ladro che stava per entrare al ladro al ladro al ladro si è messo a gridare l'uomo spaventato si è messo in fuga e per fortuna anche questa anche in questo caso il reato è stato sventato come appunto quello della oreficeria della gioielleria a fano vediamo a senigallia senigallia si parla del gembori caccia alla formula giusta blindarlo per sempre a senigallia è una dichiarazione del sindaco livetti che dice che dobbiamo istituzionalizzare l'evento per questo occorre una nuova formula giuridica che permette di accedere a un maggior numero di contributi pubblici la costituzione di una fondazione è stata scartata ma si pensa ad una soluzione dove si potrebbe così accedere più celermente in maniera più agevole ai contributi sia regionali che statali perché poi il gembori è una fonte di alimentazione dell'economia senigallese tra le primarie molto molto importante prima di chiudere il corriere diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese dove si parla di un tema che riguarda la siccità e vi dico perché acquedotto una nuova rottura la regione prelievi dimezzati i tecnici di marche multiservizi sono dovuti intervenire a pantano per la rottura dell'acquedotto una rottura piuttosto importante oggi si terrà il vertice in prefettura sulla crisi idrica una crisi che diventa sempre più incombente sempre più oppressante veramente è un caso difficile da risolversi per coloro che devono così assicurare il rifornimento idrico a tutto il territorio e quando c'è penuria d'acqua insomma la cosa diventa alquanto difficile comunque questa rottura è stata accomodata con un intenso lavoro a metà mattinata e quindi poi la via ha potuto essere riaperta tutto nella normalità alle 13.30 quando la squadra di marche multiservizi dopo aver riparato la parte danneggiata dalle tubazioni ha potuto ripristinare l'erogazione del servizio idrico nella zona nella zona e allora vediamo anche un articolo che si connette a quanto detto furlo la diga in deficit e stiamo peggiorando nero su bianco l'emergenza idrica in provincia di pesaro è in netto peggioramento con tre invasi a uso idropotabile sotto il 50 per cento della capienza vedete come le riserve si stanno assottigliando sempre più ed è interessante anche questo articolo che riguarda la sanità dopo i dati preoccupanti indicativi anche dello stato della sanità pubblicati ieri dal Corriere Adriatico che evidenziava come gli emolumenti dei medici che fanno parte delle istituzioni private sono più del triplo di quelli che sono in servizio nel sistema sanitario nazionale ebbene ora abbiamo dei giudizi su quanto sta avvenendo la sanità nel caos e le ipotesi in crisi vergognoso vergognoso si dice favorire i medici esterni ebbene medici privati pagati a peso d'oro il pd deposita questa depositerà questa mattina in regione una interrogazione diretta alla giunta acquaroli il primo firmatario è il nuovo consigliere regionale renato claudio minardi il quale si è associato a tutto il gruppo del partito democratico il caso riguarda il servizio del 118 della provincia di peso rubino che dove sono risultati scoperti diversi ruoli oltre 200 turni necessari per coprire le 10 postazioni territoriali che fanno parte appunto del sistema sanitario locale contributi alle associazioni la coda imbarazzante di ricci dopo quanto avvenuto a fondi e opera maestra stella polare insomma queste due associazioni che hanno ricevuto soldi dall'amministrazione comunale insomma c'è una un rilancio da parte dell'onorevole francesco don onorevole antonio baldelli qui forse c'è un errore su questa didascalia per quanto riguarda la camera dei deputati nel corso di una audizione alla camera baldelli ha riferito in merito al caso dei fondi alle due associazioni per la gestione di eventi e iniziative tra cui anche il paglio dei braceri l'abbiamo visto appunto nella giornata di ieri trovato morto fulvio tonti manager ifi lo aspettavano per festeggiare i 50 anni l'imprenditore è stato stroncato da un malore all'interno della propria abitazione tre mesi fa era morto il padre e lui è stato anche presidente del gruppo lo aspettavano alla cena per i suoi 50 anni ma alla festa fulvio tonti non è mai arrivato il manager dell'ifi è stato trovato morto in casa stroncato da un infarto ed ora passiamo al resto del carlino con una rapida sintesi degli articoli un po' li abbiamo visti aset mattioli promette scelte coraggiose giacomo mattioli il nuovo presidente dell'aset e poi abbiamo visto anche il caso della auto parcheggiata della vice sindaca loretta manocchi ma c'è un articolo a fondopagina che ha solo il resto del carlino è quello di un nuovo blitz che le forze dell'ordine hanno compiuto al vittoria colonna dove sono stati trovati all'interno in forma abusiva due giovani magrebini sono veramente giovanissimi uno ha poco più di 18 anni quell'altro addirittura è un minorenne il diciottenne è senza fissa dimora con precedenti specifici per spaccio su cui pendeva addirittura un divieto di ritorno nella nostra città l'altro ha 16 anni è sempre un magrebino ed era uscito ed era fuggito possiamo dire da una comunità per i minori della provincia di macerata la della sua scomparsa era stata denunciata appunto alle autorità vediamo la pagina di colli al metauro giunta assente manca incisività vladimiro perlini già vice sindaco di saltara poi confluito nei colli al metauro sfiducia la maggioranza si parla di criticità della nuova amministrazione non vedo l'impronta politica si è persa la serenità interna ha dichiarato appunto l'ex vice sindaco è un attacco politico all'attuale giunta adesso lavoriamo alla provincia autonoma è un nuovo obiettivo che si persegue a urbino urbino che ha consolidato il suo ruolo di provincia effettiva in questi ultimi tempi però con il nome di provincia di pesaro e urbino adesso invece si lavora per lasciare la provincia di urbino giorgio londei presidente dell'associazione urbino capoluogo dice coinvolgeremo il consiglio comunale serve l'impegno di tutti ed è un nuovo obiettivo che viene evidenziato da questa intervista e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per domani alle 7 e come sempre tutti i giorni le notizie del giorno alle 20 e 30 di questa sera nelle tg occhio alla notizia di fano tv vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata